Quanto è per Los Angeles? Dipende, andate al ritorno? Sta scherzando, vero? Quando metti il trucco... è come se fossi un pittore. Ma invece di dipingere sulla tela... ti dipingi la faccia. Che posto è? Lei è Tess. E tu perché sei nel mio specchio? Non ho mai visto niente del genere. Voglio assolutamente farne parte. Grande entusiasmo, pessimo tempismo. Non è la ragazzina che era dietro le quinte ieri. Voglio essere lì. Voglio farlo anch'io. La domanda è... ce l'hai il talento? Dove sono le grandi ballerine di Los Angeles? Lavorano con le star. Che ci fa quella lì sopra? Credo voglia un provino. Ehi Dave, taglia! Aspettate, no, ce la posso fare. È carino che ci credi. Giù il sipario. Forza, andiamo. Aspetti. Su il sipario. Ali, qual è il tuo vero nome? Alice. Alice? Benvenuta nel paese delle meraviglie. Robine. Patruda. Alice. Robine. Grazie a tutti.